è come se fosse il boss finale oddio che paura le scale bisogna dire piano superiore che sono i bagni quindi no portacci tua che paura salta 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 e sbrigati quindi facciamo aprire sta porta e andiamo avanti segui la scia di sangue la batteria no addirittura un paio sei innocuo tu guardami bene manco per il cazzo sei innocuo dove vado dove vado e niente ho stato strada e vabbè ho stato strada che te posso fa che te posso fa ma eravamo saliti da qua ma scusa ma perchè mi ho fatto salita e poi siamo tornati di nuovo ma scusami aia fatene un attimo là dentro tranquillo chiudi sta porta pure noi eravamo passati sopra allora non dovevamo saltar giù e io ho saltato giù però aia no 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 che cazzo vuoi aia e non salta e non salta ok come no no si si invece oh no no e mo praticamente non c'è modo di nascondersi da questo ecco dove mi salgo no maledizione ok siamo di nuovo sopra madonna che trappolone qua a buca madonna che salto veramente devo farlo salto così proprio io dovevo farlo salto nooo nooo lasciala perde chi se ne frega eh nooo nooo questo è un problema coppia di notizie è molto forte quindi la deprima che stava dentro quella stanza cioè io adesso in mezzo al buio com'è per spostarti al buio hai bisogno della tua videocamera nooo ah abbiamo anche compagnia è sparito nooo non è sbagliato manco per niente però ragazzo voleva soltanto spaventare così poteva un po' essere simpatico della situazione ragazzo il terzo piano via 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 non mi interessa niente oh me sono bloccato perché ah è rotta adesso no me sono incastrato di qua ok mi dispiace trappa alla prossima ragazzi ah l'inizio del gioco qui porca troia dove dove devo andare dove aia l'unica porta che non ho visto è questa sali sali sarà per la prossima bestione mamma mia la stanno a far sudare comunque c'è una porta prima di quella che spacca il ciccione ok si immaginavo che l'ho trovata tutta alla fine per esclusione alla fine l'ho trovata ok ops che donna ti ho dato fastidio no allora vabbè a posto me ne posso andando ecco la chiave per accedere al piano 3 raggiungi la cappella guarda che zonetta questo sta pregare davanti a televisione vabbè vabbè tolgo il disturbo piano però perché sbatte la porta cappella ok verso di qua madonna che ansia ah cosi proprio ah cosi proprio La promessa dei Prophets era sempre la libertà della morte e qui è lì sarai guardare la morte e la risurrezione e insieme siamo liberi non sei più in qualche paura ho riuscito l'elevator che ti prenderà alla libertà siamo liberi siamo liberi no, ma sono Posso andare? Grazie signori Piacere L'ascensore Mi sono rimasto senza parole Ok Wow Perché sta a scendere più? Dove stanno a portare? Mi hanno fatto credere Quanto sta a scendere in profondità? Ma stiamo a andare Nell'inferi Cerco un'altra uscita Ma va Tutto questo ghiaccio Devo dire che non me l'aspettavo Siamo completamente in un altro ambiente Adesso qui sembra proprio laboratori avanzati Corro Preparati al peggio Quanto devo andare avanti? Eh la porta si è magicamente chiusa qui Che cosa è? Un po' 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 What the fuck? Morphogenic engine charge, camere delle... Ok, forse è qui. No! No! Vabbè, ma dove vado? Oh, non mi ha ammazzato. Chiudi la valvola delle riserve di fluidi del supporto vitale. Chiudi la valvola. E questo Billy? Sì, dovrebbe essere questa la stanza giusta. Salvataggio. E se salva, vuol dire che stiamo andando avanti. Qui? Qui? non lo fa niente documenti è questa la valvo si è lui belli una volta fatta la valvo devo andare in un'altra stanza a staccare i fili ed infine prendere sulla mano sulla mano hai risponato Gasper faccelo dietro faccelo dietro una volta devo andare in un'altra stanza a staccare i fili ho qualcuno che guarda che vuole qua forse devo andare a staccare i fili non so se sta andando a direzione giusta si salvataggio c'è la forma di una mano al centro della sala dove hai preso il documento dove c'è Billy a quante scale so andiamo andiamo oh che ho dietro ahia madonna non mi ha lasciato un attimo no ma ammazzato a direzione giusta ok 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 Sì, sì! Ha cambiato ospite Siamo noi per essere l'ospite O è morto Nuovo obiettivo Esci Che bello Siamo zoppi Malandanti proprio Uscita qui Non ce la facciamo Stiamo a tocchi Chi te l'ha fatto farvi di qua Si sei il nuovo ospite Quindi in teoria sarebbe meglio che io non uscissi in realtà da qui Il menti lo porterai all'esterno Il World Rider Che bello Non c'è grazie Hanno fatto uno sbaglio questi Ah no Che sbaglio Finito Mamma mia E beh quindi niente Non abbiamo risolto niente Siamo andati lì soltanto per Per far niente Tanto la macchina è rimasta lì La macchina fotografica è rimasta lì Quindi tutte le immagini registrate Sono rimasto in là dentro E il mio personaggio è morto ma è World Rider ancora vivo Quindi niente Cioè è stato tutto inutile Va bene va bene Wow Vabbè dai Alla fine mi sono divertito Nonostante non sia il proprio Il genere di giochi che preferisco di più in assoluto Però Però mi sono divertito E niente Io direi che possiamo concludere qui a questo punto Dopo due ore e mezza di live Siamo riusciti finalmente a portarlo a termine Sono molto contento così non lo giocherò mai più E ci vediamo alla prossima Buonanotte Buonanotte